Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Anche militare non staremo qua a discutere. Avremo un paese che avrebbe occupato un altro paese all'interno dell'Europa e le discussioni sarebbero state altre. Il sostegno che è arrivato anche militare per l'Ucraina è proprio per consentire un tavolo negoziale, proprio per consentire il fatto che non ci sia un escalation militare. Altrimenti probabilmente questa guerra sarebbe durata molto meno. La guerra lampo che sicuramente i russi prospettavano sarebbe stato un rovesciamento del regime in Ucraina e ripeto staremo parlando di altre cose. Il fatto che ci sia stata una resistenza anche legata agli aiuti occidentali in Ucraina consente che noi possiamo parlare di una negoziazione. L'importante è avere chiari quali sono gli obiettivi. L'obiettivo è negoziale, l'obiettivo non è un escalation militare, l'obiettivo non è una cobelligeranza da parte dell'Occidente in questa guerra. E questo deve essere altrettanto chiaro. E in questo senso il Presidente Conte ha espresso un'opinione netta. Noi siamo favorevoli a sostenere l'Ucraina, ma non siamo favorevoli affinché si trasformi da aggredito in aggressore in qualche modo. Quando io sento parlare di sconfitta della Russia rimango un po' interdetta, perché stiamo parlando di una potenza nucleare. Quindi credo che il tema sostanziale sia come arriviamo al negoziato, quali sono i termini che chiaramente devono essere definiti dai due contendenti e quali sono i principi accettabili per chiudere questo conflitto. La chiusura del conflitto deve essere il nostro obiettivo, anche perché quello che stiamo vedendo in termini di sofferenze civili, di quello che stiamo vedendo tutti i giorni, dalle immagini che ci vengono inviate dai nostri coraggiosi inviati, penso che sia sufficiente per chiarire che questo conflitto deve durare il meno possibile. Voglio chiedere a Poletti, Poletti ovviamente da quella che è la tua esperienza, le tue conoscenze in un...